600 giorni di lavori sul ponte translagunare, ovvi disagi e necessarie limitazioni alla portata di mezzi pesanti, ma non ci sarà nessuna paventata chiusura dell'importante terra stradale, riconoscibile nel terciato della statale Romea. Comune di Chioggia e Anas hanno iniziato a discutere in videoconferenza del piano dei lavori di manutenzione programmata, confrontandosi su tempistiche e caratteristiche degli interventi per minimizzare l'impatto conseguente all'avvio dei lavori da un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro. Si tratta del completo rifacimento degli impalcati dei ponti sui canali Montalbano, Alleghero e Otrigan, ovvero i tre blocchi del ponte translagunare, ma anche dell'antiguo ponte sul canale Fossetta. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, il transito in orario diurno sarà sempre consentito su entrambi i sensi di marcia, mezzi leggeri agli autobus e con qualche limitazione di tonnellaggio oppure ai mezzi pesanti, e sicuramente su questo punto gli operatori del porto Chioggiotto chiederanno di poter dire da loro. Le lavorazioni che rendono necessarie l'istituzione temporanea di i sensi unici alternati o la parziale chiusura del traffico saranno effettuate esclusivamente in orario notturno e per un periodo limitato. Nel dettaglio, la durata totale dei lavori per i ponti sui canali Montalbano e Otrigan sarà di 160 giorni con l'istituzione del senso unico alternato in orario notturno per 21 sere non consecutive. La manutenzione del ponte sul canale Alleghero è invece prevista in 270 giorni con cantiere attivo 24 ore che prevede l'istituzione del senso unico alternato notturno per 84 sere non consecutive. Per il ponte sul canale Fossetta dureranno invece 170 giorni con cantiere attivo 24 ore e renderanno necessaria la chiusura temporanea notturna per 10 giorni per senso di marcia. Sarà l'intervento più laborioso e per questo il sindaco di Chioggia, Mauro Emelao, si è riservato di ragionare anche con i primi cittadini di Loreo, Adria, Cavarzere e Codevigo. Annas ha comunque confermato che attiverà il tavolo tecnico con tutti gli interlocutori interessati con congruo anticipo sul reale avvio dei lavori, come già avvenuto in occasione dei lavori eseguiti nei due anni precedenti.